Amici Ethereum follower bentornati in un nuovo video come vi ho accennato ieri sera nell'ultimo video che ho caricato oggi saremo qui con Grisca la mia Jack Terrier di 6 mesi e vi farò vedere un avvicinamento alle discipline sportive non è il suo primo avvicinamento perché venendo da un allevamento di cani da caccia insieme a lei quando l'ho acquistata mi è arrivato un kit completo di pelli di volpe e speriamo prima o poi di riuscire a prendere qualcosa anche con lei quando la metteremo in campo il mio obiettivo di adesso è comunque essendo giovane aiutare a migliorarla nella resistenza nella potenza del morso e nell'agilità quindi cosa faremo ogni 10 giorni perché comunque ha ancora giovane rispetto alle regole dello sviluppo delle articolazioni ogni 10 giorni faremo un pochino di treadmill e un pochino di flirfall questo lo aiuterà sia fisicamente sia nell'agilità e migliorerà nettamente un pochino la sua resistenza sennò quando non avrà comunque l'età giusta e cominceremo un percorso un attimino un po più serio non competerà mai nessuna gara sportiva questo è semplicemente un modo per rafforzarla renderla più agile più forte per quando dovrà fare il suo vero lavoro quella per cui è nato ovvero andare a caccia quindi adesso mettetevi sdraiati seduti dove cazzo volete e godetevi lo spettacolo e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.